A voi telespettatori ben ritrovato un nuovo appuntamento con informazioni di Supertivo Oristano. Oggi in primo piano la cronaca. Sono ancora da chiarire le cause dell'incendio che la notte scorsa a Bosa ha mandato in fumo una Citroen C3. Le fiamme si sono poi propagate nella casa di fianco alla quale era parcheggiata la vettura. Sul posto i vigili del fuoco di Macomèr che hanno tempestivamente spento le fiamme prima che il danno divenisse irreparabile. Un uomo di 40 anni è agli arresti domiciliari per aver minacciato e aggreduto verbalmente i clienti di un bar del centro di Oristano e per oltraggio a pubblico ufficiale. Sentiamo. Nella serata di giovedì 27 giugno gli operatori delle volanti della questura di Oristano hanno tratto in arresto un quarantenne per i reati di resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. L'uomo era stato segnalato al 113 dal proprietario di un bar del centro città perché dopo aver abusato di sostanze alcoliche ed essendo in evidente stato di alterazione aveva minacciato e aggredito verbalmente gli avventori del locale. Gli agenti avevano tentato di calmare il soggetto e identificarlo ma le sue condizioni erano ormai fuori controllo. Accompagnato negli uffici della questura, visto il protrarsi degli atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti degli agenti, l'uomo è stato arrestato. Nel primo pomeriggio di venerdì 28 giugno è stato processato per direttissima e sottoposto all'obbligo di dimora nel territorio del comune di Oristano. Un probabile ordigno bellico è stato ritrovato da un bagnante nei fondali della Marina di San Veromilis. La Capitaneria di Porto sta effettuando i dovuti accertamenti. Sentiamo. La telefonata di un privato cittadino avvenuta domenica 30 giugno alla Capitaneria di Porto ha scatenato subito un'allerta più che giustificata. A circa due metri e mezzo di profondità e a 30 metri dalla riva, nella località denominata San Marigosa, nelle acque della Marina di San Veromilis, sarebbe presente un ordigno bellico. Il condizionale è d'obbligo, precisa il sindaco di San Veromilis Luigi Tedeschi, in quanto non siamo a conoscenza delle competenze in materia di chi ha fatto la segnalazione. Intanto la Capitaneria di Porto di Oristano, guidata dal comandante Antonio Frigo, ha già dato chiare disposizioni, considerata l'urgenza di emanare un provvedimento finalizzato alla salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità. Fino ad avvenuta abrogazione all'interno dello specchio acqueo interessato dal ritrovamento, entro un raggio di 300 metri è vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da di Porto che ad uso professionale. Come è ovvio, sono anche vietate la balneazione, le attività di immersione con qualunque tecnica e la pesca. Qualora gli uomini della Capitaneria di Porto, dopo le ricerche, dovessero confermare che si tratti realmente di un ordigno bellico, lo stesso verrà fatto brillare, ha dichiarato il sindaco tedeschi. Voltiamo pagina. Mercoledì 3 luglio alle ore 9.30 nell'Episcopio di Aless, Monsignor Roberto Carboni, arcivescovo eletto di Oristano e amministratore apostolico di Aless Terralba, incontrerà i giornalisti della carta stampata, della radio, della televisione e delle testate online. Domenica 7 luglio farà l'ingresso ufficiale nella cattedrale dell'Arcidiocese di Oristano, di cui il 4 maggio è stato nominato arcivescovo da Papa Francesco. Da domani 2 luglio a venerdì 12 luglio il sindaco Andrea Luzzo e la giunta comunale incontreranno i residenti nelle frazioni. Sentiamo. Al via il ciclo di incontri della giunta comune di Oristano con i cittadini residenti nelle frazioni. Il primo appuntamento è previsto martedì 2 luglio a Torre Grande. La riunione si terrà come consuetudine nei locali della ex scuola elementare. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione della borgata marina già nel vivo della stagione turistica e per individuare le priorità del prossimo futuro. Quello di Torre Grande è solo il primo degli incontri pianificati che porterà il sindaco Luzzo, accompagnato da esponenti dell'amministrazione e consiglieri comunali, a visitare come da programma le frazioni e le borgate. Si tratta di incontri periodici utili per ascoltare le esigenze dei cittadini e per esporre i progetti di intervento programmati e da calendarizzare, così come ci siamo ripromessi, in un'ottica di condivisione degli obiettivi dell'amministrazione per una crescita più armonica della città e le sue frazioni, ha dichiarato il primo cittadino oristanese. La nuova fondazione Oristano inizia il suo lavoro fra mugugni e assensi non convinti. Sentiamo. Ad Oristano l'attenzione della politica locale appare concentrata sulla costituzione di una fondazione unica che dovrebbe avere il duplice incarico di organizzare e gestire la sartiglia, l'altro i beni culturali, così come stabilito dal Consiglio Comunale. Proposta approvata a maggioranza, con molti mugugni e assensi non convinti. Per la fondazione Inessere sono giorni nei quali si attende che venga risolto il dissidio con i cavalieri che animano la corsa equestre e che in ultimo hanno disertato la riunione indetta dalla fondazione per le premiazioni della sartiglia 2019, conseguenze da clima pesante, quello che si respira nel mondo che ruota intorno alla giostra equestre e ai suoi protagonisti, fondazione, cavalieri e pare anche i gremi, esclusi per ora tamburini e trombettieri. E in attesa che le ombre si diradino, c'è chi inizia a esaminare e a fare i conti sulla demografia della nuova istituzione, personale, dirigenti, assemblee, consiglio di amministrazione, ma prima di ogni affondo sarà necessario vedere l'articolato finale licenziato dall'Assemblea Civica. Un punto però ci viene richiesto di chiarire per la gestione dei beni culturali. La fondazione parte già oggi con la copiosa squadra lasciata in eredità dalla memoria storica, composta da oltre 15 persone. La Proloco di Uristano ha nominato su Gumponi d'Oreddu della Sartiglietta estiva 2019. Si tratta di Benedetta Pinna. Sentiamo. Sarà Benedetta Pinna, amazzone del Gera Club Antonio Casu, a rivestire quest'anno i panni di Gumponi d'Oreddu della Sartiglietta estiva di Torre Grande. La sua sarà una pariglia tutta al femminile, perché ad accompagnare la giovane capocorsa di 14 anni, con cinque corsi al suo attivo, saranno su Segundo Angelica Salaris di 13 anni e su Derzu Laura Giglio di 16. Anche per questa edizione estiva la data scelta non sarà quella del giorno di ferragosto, ma il tutto si svolgerà la domenica prima, 11 agosto, a partire dalle ore 19. La novità più importante però, come fa sapere il presidente della Proloco Gianni Ledda, è la scelta della location. Non più nel tratto finale del lungomare, ma sulla parte sabbiosa al termine della strada asfaltata, utilizzando quindi la parte naturale di sterrato e con un'ampia tribuna a disposizione di coloro che vorranno gustarsi lo spettacolo, offerto dall'abilità dei mini cavalieri partecipanti, con un misto di tradizione e di vetrina turistica. Due le associazioni che vi prenderanno parte. Oltre al Gera Club Antonio Casu, diretto da Andrea Manias, ci saranno i mini cavalieri del Gera Oristanese, coordinati da Antonio Madeddu. La colonna sonora sarà, come sempre, scandita dai mini tamburini e trombettieri della Proloco di Oristano. Per la vestizione del suo componitore Eddu, anche quest'anno, è stata incaricata di istruire le Masai Eddas, Cheti Fiori, già Masai Yamanna, in più edizioni di Sartiglia. Voltiamo pagina. Anche l'amministrazione comunale di San Verominis, anticipando l'approvazione del regolamento comunale per la vivibilità urbana e per la qualità della vita, dice stop al fungo sulle spiagge dal 1 luglio. Sentiamo i dettagli. Sono sempre più molteplici le ordinanze di enti amministrativi sardi, volte a fronteggiare l'inquinamento da plastica e non solo. Ultime, ma solo in ordine cronologico, sono le prescrizioni firmate dal sindaco di San Verominis, Luigi Tedeschi, con le quali si dichiara guerra alla plastica ausegetta e al fumo sulle spiagge. Si parte il 1 luglio e con la prima ordinanza numero 23 sono vietate le sigarette, l'abbandono dei suoi derivati come i mozziconi e l'utilizzo di oggetti in plastica monouso non biodegradabili. I trasgressori, se individuati, pagheranno molte che vanno da 25 a 500 euro. Con la seconda ordinanza numero 24 del 24 giugno, sempre a partire dal 1 luglio, il primo cittadino sanverese obbliga i commercianti, i privati, le associazioni, in occasione di feste pubbliche sagre, ad utilizzare nelle spiagge, nei siti archeologici, pinette e parchi pubblici, esclusivamente piatti, posate, bicchieri, contenitori, cannucce, palloncini e simili, palette di gelati, frullati e granite, in generale quindi stoviglie e i loro imballaggi e sacchetti materiale biodegradabile e compostabile. Anche in questo caso le sanzioni sono le stesse, da 25 a 500 euro. La decisione è stata presa in virtù della vocazione turistica del piccolo comune dell'Oristanese, legata alle bellezze naturalistiche e per contribuire in questo modo attivamente alla riduzione dei troppi rifiuti che inquinano l'ambiente e si riversano in mare sugli arenili con gravissimi danni per l'ecosistema. La compagnia barracellare di Terralba opererà anche nel territorio di San Nicolo d'Arcidano grazie alla collaborazione tra i due comuni così da assicurare un servizio antincendio nel periodo estivo anche nell'Arcidanese. Il servizio sarà valido dalla data di stipula della convenzione sino al 30 settembre e sarà rinnovabile annualmente. Da oggi 1 luglio fino a sabato 31 agosto l'Asl di Oristano ha attivato la Guardia Media Turistica in tre delle località turistiche di maggiore afflusso della costa oristanese, Torre Grande, Puzzuidu e Santa Catenina di Pitinuri. Negli ambulatori attivi tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 sarà garantita l'assistenza sanitaria di base alle persone non residenti in particolare ai turisti e ai lavoratori stagionali. E ora passiamo a parlare di cultura. Savina Dolores Massa ha presentato a Oristano il suo nuovo libro. Sentiamo. Savina Dolores Massa esce con una nuova opera e quindi un nuovo titolo A un garofono fuggito dato il mio nome edito dalla casa editrice Il Maestrale e presentato in una riuscita serata culturale al Centro Unla di Oristano. Con la scrittrice hanno dialogato il direttore del Centro Marcello Marras e Anna Maria Capraro che ha presentato e percorso la trama del libro che Savina ha ambientato ad Oristano narrando e descrivendo i luoghi dell'infanzia così come sono stati vissuti a contatto con persone protagoniste di storie proprie che Savina narra come in un racconto che coinvolge. Non è una favola ma la descrizione delle sensazioni che sconfinano in un quotidiano vissuto dai protagonisti che si ritrovano nelle pagine di un libro che si lascia leggere e qui sta uno dei segreti della narrativa. L'opera si trova presso la libreria Mondatori di Piazza Manno. Domani, martedì 2 luglio ore 21 al Centro Servizi Culturali Ulla di Oristano presentazione del documentario Muri di Francesco Conversano e Nene Grignafini. Sarà presente il regista Francesco Conversano. Domani, sempre 2 luglio alle 19 in Piazza Zunia Cavras l'associazione Libriamoci presenta aperitivo con l'autore Antonio Caria parlerà del suo nuovo libro Il faro delle menzunni L'ingresso è libero. Una mostra che riunisce i lavori di donne tesitrici omaggiando Grazia De Ledda e Maria Lai. Sentiamo. Andando via omaggio a Grazia De Ledda e il filo conduttore con le opere di Maria Lai ad animare sino al 7 luglio la sala del Monte Granatico di Zediani una operazione ideata dall'operatrice culturale Giuditta Sireus di Villa Cidro che riunisce i lavori di 23 tesitrici di altrettanti paesi e comunità. In pratica i manufatti realizzati riproducono le opere che Maria Lai ha inciso e lasciato nei pressi della chiesa della solitudine di Nuoro dove riposano le spoglie del premio Nobel. Per questo si chiama esposizione monumentale e con l'autrice a presentarla i sindaci di Zediani Claudio Pinna e di Galtellì Giovanni Santoporco e il presidente della Proloco Antonello Zireddo interessanti le testimonianze delle tessitrici presenti Maria Angela Cuvarda di Zediani e di Arianna Pintus di Tratalias. E ora passiamo a parlare di sport è stata la Russia ad aggiudicarsi il primo posto al Sardegna Volleyball Challenge 2016-09. La Russia vince il secondo Sardegna Volleyball Challenge e lancia la sfida per i campionati europei di categoria in programma nelle prossime settimane in Italia e Croazia. Domenica mattina al Palatarros di Oristano nella finale del torneo internazionale di pallavolo giovanile under 16 femminile organizzato dalla Gymland la Russia ha superato 3 a 1 la Slovenia. In campo si sono ritrovate le due formazioni migliori e a conti fatti alla fine ha vinto anche la squadra più forte quella più dotata fisicamente e tecnicamente. E non è un caso se il premio per la miglior giocatrice è andato proprio a una russa la schiacciatrice Arina Fedorosteva. Sin dai primi minuti ha fatto capire che partita sarebbe stata. Sotto di 2 set a 1 la Slovenia ha cercato di rientrare in partita nel quarto set ma è riuscita solo a stare nella scia delle avversarie cedendo nel finale chiudendo sotto di 6 lunghezze per 25 a 19. Il Sardegna Volleyball Challenge inserito nel calendario ufficiale di Oristano città europea dello sport si chiude con grande soddisfazione degli organizzatori e degli amministratori comunali con Russia e Slovenia in campo per la finale oggi Oristano è stata davvero città europea dello sport hanno detto il sindaco Andrea Luzzo e l'assessore allo sport Francesco Pinna è stata una grande festa di sport ottima dal punto di vista tecnico impeccabile per l'organizzazione e importante per il ritorno economico ed immagine per la città e il territorio prima che un successo sportivo è stata una vittoria per l'intera città ha aggiunto il presidente della Gymland Roberto Porchedu risolvere e superare i problemi complessi che spesso incidono sul futuro di un'azienda attraverso strumenti innovativi quale il cosiddetto design thinking un modello progettuale sviluppato in team è l'obiettivo del prossimo laboratorio digitale promosso dal punto impresa digitale della Camera di Commercio di Oristano in programma venerdì 5 luglio dalle ore 10 alle ore 13 nella sede camerale di Via Carducci i partecipanti saranno in grado di identificare i fattori di miglioramento e cambiamento organizzativo collaborare nella conduzione nel miglioramento dei processi e soprattutto sviluppare un nuovo approccio mentale e comportamentale le imprese o le persone interessate possono iscriversi al laboratorio gratuito compilando il modulo disponibile sul sito internet camerale all'indirizzo www.org.com.it e questa è l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione vi ricordo che potete contattarci all'indirizzo redazione chiociolasupertv ristano.it sulla nostra pagina facebook grazie stati con noi buon proseguimento chiociolasupertv 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 Grazie a tutti.